Siamo davvero molto contenti di riprendere questa iniziativa che in passato anche il Comune di Fano aveva, che è quella delle vacanze per la terza età, cioè per le persone anziane, perché abbiamo colto un bisogno in questi anni, soprattutto dopo la pandemia, un bisogno di riprendere un po' di socialità, di aggregazione e anche di svago e di benessere. Condizioni che cerchiamo di portare avanti e di garantire anche con tante iniziative durante l'anno che rientrano, come anche questa, nel progetto di promozione della longevità attiva che si chiama Old But Gold. Quest'anno in via sperimentale riprendiamo il tema delle vacanze organizzando un soggiorno dal 2 al 9 settembre nella località di Folgaria, provincia di Trento, al costo totale di 520 euro, ma con la possibilità per coloro che presentano l'ISEE e che arrivano singolarmente a 7.300 euro di SEE di avere un consistente abbattimento dei costi e invece per la coppia, quindi i due conigi, l'ISEE al massimo può essere di 10.000 euro. Chiaramente possono partecipare anche coloro che non presentano l'ISEE ma senza avere un abbattimento. L'importante e l'obiettivo finale è quello di garantire il più possibile, a costi comunque contenuti perché 520 è il costo complessivo del trasporto e del soggiorno con pensione completa per 7 giorni, ma di mettere a disposizione un'opportunità di svago, di benessere per i nostri anziani. Siccome i posti sono limitati bisogna iscriversi entro il 31 maggio presso i locali della Proloco nella sede di Tre Ponti, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, oppure il sabato presso l'UPS qui a Sant'Orso dalle 9 alle 11.